Ci siamo, sono le 5 di mattina, è ora di iniziare una nuova giornata, subito fuori dal letto e andiamo subito a fare colazione. Colazione sana, un bicchiere d'acqua, un po' di noce, un po' di mandrole e una banana. Laviamo i denti in modo molto meticoloso e molto attento per non lasciare tracce di cibo e successivamente possiamo dedicarci alla lettura di un bellissimo libro. Un po' di flessioni, addominali, esercizi vari. Terminiamo la mattinata con una veloce meditazione per risvegliare animo e corpo. Peccato che tutto quello che hai visto non sia vero, questa non è la mia morning routine e io non mi sveglio alle 5 di mattina. Perché alzarsi alle 5 non sempre è la cosa migliore da poter fare. Quanti di voi hanno letto Miracle Morning? Penso tanti di voi. Oppure Il Club delle 5 del mattino, un altro libro super letto, super famoso. Quanti di voi l'hanno letto e hanno poi provato ad applicare quelle regole, quei principi, quei consigli che davano questo tipo di libro? Per chi non l'avesse letto, riassumo brevemente di cosa si tratta. Si trattano dei libri prettamente motivazionali, dove tramite un ottimo storytelling ci danno dei consigli. Ci consigliano che il segreto per avere successo è alzarsi la mattina, alzarsi presto la mattina, indicativamente alle 5 del mattino. Alcuni principi sono molto, molto interessanti, come quello della morning routine. La morning routine è molto, molto utile, la utilizzo anch'io tutte le mattine, però con qualche piccola differenza, dopo vedremo insieme quale. Durante questa morning routine il libro consiglia di bere appena appena alzati, di fare attività fisica, di tenere un diario con i propri pensieri, di leggere, di fare meditazione e tante altre cose fino ad arrivare poi alle 8 di mattina e fare colazione. Ok, fantastico, tutto bello, l'ho provato, l'ho testato e non ha funzionato. Non ha funzionato per diversi motivi. Il primo motivo è che una morning routine a stampino non funziona. Non funziona perché ognuno di noi è diverso, ognuno di noi ha dei ritmi diversi, ognuno di noi ha degli obiettivi diversi e ha stili di vita completamente diversi. Quindi già il primo problema è stato ad esempio utilizzare una morning routine diversa, quindi non utilizzare quella che mi dava il libro, i consigli che mi dava questo libro, ma di strutturarla. Questo perché mi sono accorto che utilizzando questa morning routine, al mattino cosa succedeva? Non mi alzavo. Non mi alzavo perché sapevo che la prima cosa che avrei dovuto fare al mattino sarebbe stata quella di fare allenamento fisico, fare flessioni, fare addominali. E cosa c'è di peggio di iniziare la giornata facendo flessioni addominali? Ho resistito per un po', dopo un po' ho mollato. Ho mollato e ho capito che per me la cosa più importante per svegliarmi di colpo la mattina, oltre ovviamente ad avere obiettivi e fare qualcosa che mi piace, è fare colazione. Io devo svegliarmi e fare colazione. Per me quella è la prima cosa che mi butta fuori proprio dal letto perché dico vado a farmi una bella colazione. Dopo faccio tutto il resto, dopo faccio qualche camminata, posso fare anche qualche flessione. Tendenzialmente poi io leggo. Dopo colazione e aver lavato i denti, sciacquate e tutto, io leggo mezz'ora. A questo ho unito un'altra abitudine molto utile, che è quella della riflessione Telegram. Quindi ogni mattina leggo un libro e poi porto la mia riflessione sul mio canale Telegram. Lascio in descrizione il link nel caso tu non sia ancora dentro e sei il benvenuto ovviamente. Dopo questa riflessione Telegram, ormai sono le 9 e inizio a lavorare. Cosa non ti ho detto, però non mi sveglio alle 5 del mattino. Spoiler, non mi sveglio alle 5 del mattino. Lo ammetto, ci ho provato anche quello. Non ha funzionato? Direi di no. Non ha funzionato per diversi motivi. Quando ho letto questo libro, che ti consiglio e vi consiglio di leggere, che è molto interessante, si chiama Perché dormiamo, libro molto scientifico, che ho già consigliato nella mia lista dei 6 libri preferiti del 2020, che vi lascio qui sopra. Dopo aver letto questo libro ho capito l'importanza del dormire. E se devo alzarmi alle 5 del mattino per dormire almeno 7-8 ore, come consiglio al libro, non ti sto a spiegare i motivi perché sono tanti, e devi leggere il libro. Se dormi meno di 7 ore, devi leggere il libro per capire i danni che stai facendo al tuo corpo. Nel lungo termine, non nel breve. Però, a parte questo, una volta che avrai letto questo libro, capirai che è importante e fondamentale leggere e dormire 7-8 ore. Per dormire 7-8 ore e alzarsi alle 5, bisognerebbe andare a letto alle 10? 9? 9-10? Ok, ad oggi non riesco. Non riesco. Purtroppo non riesco. Per mia volontà, probabilmente, per esempio mi piace andare a camminare la sera, vado a camminare, torno dopo le 10, o almeno c'è a coprifuoco, torno alle 10, quindi dopo, tra sistemarsi e andare a letto, sono già le 10 e mezza, quindi non riuscirei a dormire 7-8 ore. Oppure la sera, mi piace leggere. Mi piace leggere, ho appena comprato il Kindle, dopo porterò un video anche sul canale, anche sul Kindle, perché è molto interessante e mi sta dando grandi soddisfazioni. Dopo aver letto, mi addormento. O magari la sera, semplicemente, mi piace svagarmi e guardare qualche serie TV. Lo ammetto, guardo le serie TV, in inglese, ma le guardo anch'io. Quindi non riesco a addormentarmi le 10. Probabilmente, solitamente, mi addormento alle 11 e mezza, mezzanotte. Per questo ho calcolato che io devo svegliarmi alle 7 e mezza. La mia sveglia è alle 7 e mezza. Perché è più importante la quantità e la qualità del sonno che neanche fare i supereroi, svegliarsi alle 5 e poi non dormire abbastanza. Per essere più produttivi è utile svegliarsi prima, sì, ma se non dormiamo abbastanza è controproducente, perché nell'arco della giornata saremo dei zombie. Ovviamente non tutti possono scegliere e decidere di alzarsi quando vogliono, perché io prima lavoravo in officina, come ho già raccontato in un video qui sul canale dove racconto la mia storia, da operaio a freelance. Quando mi dovevo alzare per andare al lavoro, mi alzavo alle 6 del mattino e dovevo essere in azienda alle 7 per timbrare. Ora, ripeto, non per tutti è possibile alzarsi quando si vuole, ovviamente. Da freelance posso gestire il mio tempo, gestire tutti i miei appuntamenti, consulenze e altro. E ho deciso di dedicare la mattinata, dalle 7 e mezza alle 9, a svegliarmi, fare colazione e leggere, per poi iniziare la giornata alle 9. Quindi, dato che non tutti possono farlo, chi può farlo, consiglio di farlo. Altrimenti, trucchettino, mettere la sveglia, non per svegliarsi, ma per andare a letto. Quindi, quando arrivano le 10, c'è una sveglia che ti dice che è ora di andare a letto. Prendere un ritmo, andare a letto sempre allo stesso orario e svegliarsi sempre allo stesso orario. Molto difficile, però possibile. Il consiglio in più, che danno molti, è anche addirittura quello di non svegliarsi, cioè non svegliarsi con la sveglia, ma senza. Anche il libro stesso ne parla e dice che il corpo umano non è fatto per essere interrotto e per interrompere i cicli notturni con una sveglia, ma è utile svegliarsi quando il corpo ne ha bisogno. Il problema è che, sempre per lo stesso motivo, non tutti possono gestire il proprio tempo e decidere quando alzarsi e di contro una mattina svegliarsi più tardi potrebbe essere un grosso problema se non sono alla sveglia. Quindi, ovviamente, questi sono consigli per liberi professionisti, imprenditori, ovviamente, ma anche per studenti. Magari in dadda adesso è più fattibile anche questa cosa, però ovviamente non dobbiamo arrivare a ritardo al lavoro, a lezione, perché non abbiamo messo la sveglia al mattino. Quindi, conclusione, alzarsi alle 5 del mattino è una stronzata? Sì, se non sai come farlo. Sì, se vai a letto a mezzanotte. Sì, è una stronzata, perché non puoi dormire 5 ore, non è sostenibile nel lungo termine e pagherai le conseguenze di questa cosa. Perciò, invece che seguire le mode o il guru di turno, tipo quelli di quei libri che ti consiglia di alzarsi presto, super produttivi, eccetera, eccetera, se lo vuoi fare, ricordati di dormire 7-8 ore al giorno. Per capirlo meglio, ti lascio, ripeto, in descrizione il libro Perché dormiamo che ti consiglio assolutamente di leggere sia che tu abbia problemi di sonno sia che tu non ne abbia perché è davvero molto interessante e ti apre davvero la mente su questo argomento molto, molto sottovalutato da noi stessi e anche dalla società sotto vari aspetti. Questo è il primo consiglio che ti do. Il secondo consiglio è questo. Questo qui si chiama Xiaomi Mi Band 5 ed è pazzesco. Collegato al sonno è pazzesco. È uno strumento che ti permette di monitorare i passi, monitorare il battito cardiaco, monitorare lo stress, ma soprattutto ti monitora il sonno. Ti dice quante ore effettive hai dormito, quante ore di fase REM, fase non REM hai fatto. È molto, molto, molto interessante. Davvero, sono i 30 euro meglio spesi della mia vita fino adesso. Ti lascio in descrizione anche questo se lo vuoi acquistare. Anzi, se ti interessa, fammelo sapere, così registro un video ad hoc dove ti parlo di questo strumento, di questo aggeggino molto interessante così poi ne nascerà sicuramente una bella discussione. Questa era la mia riflessione su sonno e produttività. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, anzi, dimmi a che ora ti svegli e a che ora vai a letto così vediamo un po' anche nei commenti a che ora vi svegliate, a che ora dormite, a che ora vi addormentate, quante ore di sonno fate e se anche voi seguite questa Miracle Morning quindi di svegliarvi presto al mattino per fare tutte le vostre attività. Fatemelo sapere e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. A presto!